Se non fosse per i ragazzi che devono allenarsi e i disabili che devono fare terapia, la vicenda sarebbe a questo punto quasi comica e invece di comico non c'è proprio nulla. A 24 ore esatte dalla conferenza stampa del comune di Arezzo che annunciava la riapertura della piscina comunale chiusa con un'ordinanza sindacale, oggi la nota del gestore, la piscina, rimane chiusa. Una situazione peraltro facilmente ipotizzabile, visto che le chiavi del centro sportivo sono in possesso, a pieno titolo almeno per adesso, del centro sport Chimera SRL che fa riferimento a Walter Magara. Il centro sport Chimera, si legge infatti in una nota ufficiale, respinge qualsiasi disinformazione tesa a creare un disagio agli utenti della piscina e un danno di immagine a chi da anni ha rappresentato e rappresenta un modello di gestione. Il centro sport Chimera infine rifiuta qualsiasi atto unilaterale autoritario che rappresenti una reale limitazione, riduzione o condizionamento della propria e libera autonoma attività d'impresa, sancita dall'articolo 41 della Costituzione e dal contratto in essere con lo stesso comune. Walter Magara, amministratore dell'immobile, insomma si oppone alla riapertura resa possibile dalla deroga all'ordinanza firmata dal sindaco Ghinelli e dalla disponibilità della Chimera Nuoto a controllare il Green Pass. Il centro sport Chimera però, alla luce delle notizie stampa del 10 febbraio, rilasciate proprio dal comune di Arezzo, nella persona dell'assessore allo sport smentisce che la piscina possa riaprire in breve tempo. Annuncia anche azioni a loro tutela. I legali sono stati incaricati, si legge, di valutare le azioni, gli atti e le procedure adottate. Pertanto l'invito è a seguire esclusivamente le comunicazioni firmate dalla società di gestione dell'impianto.